Nel 2017 il reddito netto medio delle famiglie italiane si è attestato sui 31.393 euro annui, crescendo sia in termini nominali, più 2,6%, che in termini di potere d'acquisto, più 1,2%. Questi dati rilevati dall'Istat, secondo cui la disuguaglianza economica tra soggetti non si riduce, con il reddito delle famiglie più abbienti, che continua ad essere più di sei volte quello delle famiglie più povere. Nel 2017 è diminuita la popolazione a rischio povertà o esclusione sociale, con il dato che è sceso dal 28,9% al 27,3%, per una minore incidenza di situazioni di grave deprivazione materiale. Queste le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un discorso presso l'Università Roma 3, tenuto in occasione della giornata internazionale del volontariato. Consentitemi di dire anche e rimarcare che la riforma del terzo settore ha anche un altro scopo. Tutelare il volontariato dalle sue cattive rappresentazioni, dalle sue inadeguate rappresentazioni. Il volontariato non rappresenta una riserva di buonismo, come delle volte viene rappresentato. Come ho detto altrove, non è uno spazio... E non è neppure uno spazio, come delle volte viene rappresentato, di sognatori o di persone inappagate, insoddisfatte della vita. E' un'ampia galassia di un popolo fatto di donne, di uomini concreti che vivono seriamente e responsabilmente i valori della Costituzione. Centinaia di videoslot sequestrate tra Piemonte, Calabria, Emilia Romagna e Toscana e cinque persone indagate. Questo l'esito dell'operazione portata a termine dalla Polizia di Stato di Roma, Torino e Vercelli e dalla Guardia di Finanza di Torino. L'indagine si è concentrata sugli apparecchi sviluppati dalla società con sede in provincia di Reggio Calabria. Fermata così una rete criminale di produttori, gestori ed altri operatori del mondo del gioco d'azzardo, i quali avevano installato in tutta Italia centinaia di apparecchi del tutto simile a slot machine, pur essendo privi dei previsti titoli autorizzatori e del collegamento con la rete telematica dello Stato, perché spacciati per dispositivi medicali contro la ludopatia. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona hanno sequestrato immobili e rapporti finanziari di un imprenditore 59enne di fermo, per beni il cui valore complessivo raggiunge circa 2 milioni di euro. L'esproprio è stato effettuato nell'ambito dell'operazione Mondo Velato, che ha permesso di ricostruire gli asset patrimoniali finanziari del soggetto, che tramite un modus operandi ben consolidato, in oltre 20 anni si è arricchito tramite proventi illeciti e accertati. Secondo le indagini, il 59enne si affidava ad imprese apparentemente lecite, tramite cui operava una sistematica e seriale evasione fiscale e metteva in atto diverse operazioni criminali. L'uomo è stato classificato come evasore fiscale socialmente pericoloso.